Il Consiglio Comunale si è riunito oggi con quattro punti all'ordine del giorno. Anzitutto è stata sottoposta alla discussione l'istituzione del registro cittadino delle associazioni giovanili, proposta dall'assessore alle politiche giovanili Giuseppina Tommasielli per introdurre uno strumento di promozione del protagonismo giovanile e della partecipazione attiva come leva di sviluppo individuale e sociale e per promuovere iniziative ideate e realizzate dai giovani. Fra le altre deliberazioni sottoposte all'esame del Consiglio, la costituzione di un osservatorio del lavoro e delle politiche occupazionali, l'istituzione di una giornata annuale il 16 novembre per celebrare Napoli come città della tolleranza, dell'accoglienza e della convivenza ed il regolamento in materia di prestazione di servizi aggiuntivi resi dalla Polizia Locale di Napoli a titolo oneroso ed a favore di soggetti privati. E sul tema della sicurezza va ricordato che proprio ieri, 6 marzo, si è svolto un incontro alla Commissione Diritti e Sicurezza, al quale hanno partecipato i presidenti delle municipalità per annunciare il prossimo traguardo di quasi 500 impianti di videosorveglianza, partendo dai 311 già attivi in città. L'assessore alla sicurezza Giuseppe Narducci ha definito l'iniziativa come un sistema che mette alla pari Napoli con le altre grandi città e che grazie soprattutto all'estensione a nuove zone, molte periferiche, garantirà maggiori ed adeguati livelli di sicurezza. Sono in previsione, già penso per il prossimo mese, circa 149 videocamere da installare a seguito del finanziamento Polno Sicurezza. Ieri abbiamo invitato l'assessore Narducci in Commissione. Allo stesso tempo abbiamo voluto che assistessero anche i presidenti di municipalità per poter estendere in modo capillare l'informazione e anche nello stesso tempo acquisire le problematiche che arrivano dai territori. Porteremo la città a livelli di sicurezza sicuramente molto più avanzati.